E' un più frisci di un calcio di punizione in avanti, il pallone va verso Corvino, insieme a Rizzi. E' un po' niente barriera, si attende il pallone scodellato in area, così è, sul secondo palo era per antico ma mette in calcio d'angolo la difesa. Ho già sentito di tirare Rizzi, il suo pallone per antico è stato forse un po' troppo prevedibile, ha chiuso Tomaselli di testa in calcio d'angolo. Il primo corner della partita lo batte Salvatore Rizzi, se sarà Rizzi un pochino si farà lo scambio oppure direttamente in area. Ci sembra che la volta finisci direttamente in area, ma mi perde tutto il fondo.